Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Pameli Motorashport. Si torna su YouTube, si torna a fare video, si torna a parlare di storie di motociclismo e questa volta lo si fa con qualcosa di piuttosto interessante ovvero una storia che coinvolge un pilota che ha corso per tanti anni nel moto mondiale ovvero Alex De Bon e uno sponsor che lo ha sostenuto negli ultimi anni della sua carriera. Uno sponsor abbastanza particolare in realtà, uno sponsor fantasma. Per chi è fantasma? Prima di cominciare, sigla! Eccoci qui ragazzi quindi, eccoci qui per parlare di questa storia, una storia piuttosto curiosa che mi è tornata in mente di recente durante una chiacchierata con una persona a me cara e che ho deciso di riportare alla vostra attenzione nel caso ve la siate dimenticata, ovvero quella di Alex De Bon e dell'aeroporto di Castellon, lo sponsor fantasma di cui ho parlato all'inizio. Prima di cominciare però faccio le classiche raccomandazioni che non possono mai mancare, ovvero se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e seguite Pamini Motorhashpot su suoi profili social e restate sintonizzati perché usciranno tanti bei contenuti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, dai siamo ottimisti! E comunque sì, se avete piacere di farlo seguitemi pure e spero che i contenuti che vi sto portando siano di vostro gradimento. Adesso però passiamo alla storia di cui vogliamo parlare in questo video. Siamo nel 2008. Alex De Bon è un pilota di classe 1976, originario di Val Guiso, in piena comunità valenziana, che vanta una solida esperienza nel moto mondiale, più precisamente nella classe 250, dove corre a tempo pieno dal 2000 e di cui è stato nei primi anni della sua carriera appunto a livello mondiale, uno dei punti di riferimento per quanto riguarda i piloti non ufficiali. Soprattutto ha ottenuto moltissimi piazzamenti in top 10 e anche alcuni sporadici risultati nella top 5 con la Honda del team Bike Rosano Racing o BQR. Nel 2006 invece è diventato collaudatore Aprilia per la 250 e non ha corso a tempo pieno, ma ha comunque preso parte a diverse gare come wildcard o come sostituto. E nel 2007 ha conquistato, con un terzo posto sul circuito di casa a Valencia, il suo primissimo podio nel moto mondiale. Nel 2008, anno in cui comincia la storia di cui parliamo in questo video, Alex De Bon torna a gareggiare a tempo pieno nel mondiale 250 col team Lotus Aprilia, affiancato dal giovane Alex Spargarò. E quella si rivela essere la miglior stagione in carriera di De Bon nel moto mondiale. Il pilota spagnolo, infatti, al quinto GP stagionale a Le Mans, conquista la sua prima vittoria iridata e successivamente si ripete al Gran Premio di Brno. Queste due vittorie, insieme ad altri due piazzamenti sul podio e a tantissimi risultati nelle prime sette posizioni, fanno sì che De Bon termini il campionato al quarto posto, suo miglior risultato in una stagione del moto mondiale. Il campionato, ricordiamolo, vinto da Marco Simoncelli. In quell'anno comincia anche a campeggiare sulla moto di De Bon, ed è presente anche sulla moto dei compagni di squadra Spargarò, uno sponsor alquanto interessante, ovvero l'aeroport Castellon. Un aeroporto situato in piena provincia di Castellon, che quattro anni dopo l'inizio dei lavori, è ancora in costruzione, ma nel frattempo non si fa problemi a spendere milioni e milioni di euro per questa sponsorizzazione e anche per sponsorizzare squadre di calcio come il Villareal e atleti impegnati in altre discipline, come il pilota di automobilismo Roberto Meri, successivamente arrivato in Formula 1. Comincia così questa collaborazione tra Alex De Bon e l'aeroporto di Castellon, che lo segue come sponsor anche nel 2009, anno in cui De Bon prende parte all'ultima stagione della classe 250 nel moto mondiale con l'aprile le team Bluesense BQR. E nel 2010 si fa un grande passo avanti in questa collaborazione. Infatti Alex De Bon prende parte alla primissima stagione del mondiale Moto2 con una propria struttura, utilizzando il posto in griglia assegnato originariamente al team Ayo Motorsport e l'aeroporto di Castellon diventa title sponsor del team. L'inizio è molto promettente, infatti De Bon chiude il GP inaugurale in Qatar al secondo posto dietro al compianto Shoya Tomizawa, ma la stagione in generale si livella difficile con tanti alti e bassi, gare buone, gare più difficili, qualche ritiro e anche infortuni. Infatti il pilota spagnolo è costretto a saltare tre gran premi per guai fisici. Risultato finale, sedicesimo posto. Al termine della stagione 2010 Alex De Bon mette fine alla sua carriera da pilota e nel 2011 si concentra a tempo pieno sul ruolo di direttore sportivo e team manager del team AeroPort Castellon. Il pilota inizialmente è il britannico Cap Covlan, che però viene messo alla porta dopo solo i 7 GP. Successivamente si alternano sull'FTR della squadra spagnola gli americani J.D.Vic e J.Gagne, l'italiano Tommaso Lorenzetti, primo sostituto di Covlan e nelle ultime gare la squadra viene rappresentata in pista dallo spagnolo Joan Olivet. Il risultato è molto deludente nel complesso, infatti si chiude l'annata con soli 11 punti, tutti conquistati all'inizio da Covlan. E così si conclude la storia dell'aeroporto de Castellon nel moto mondiale. Però nel frattempo è successa una cosa molto importante. Nel marzo del 2011, infatti, l'aeroporto di Castellon è stato finalmente inaugurato, con una cerimonia in pompa magna e grandi proclami da parte delle anime dietro a questo progetto, ovvero il presidente della provincia di Castellon, Carlos Favra, e il presidente della Generalitat Valenziana, Francisco Camps. Tutto molto bello, tutto molto figo, peccato però che entrambi lasciano i rispettivi incarichi pochi mesi dopo, perché coinvolti in vari casi di corruzione, tangente e quant'altro, tra cui per esempio il famoso caso Gürtel. Se non sapete cos'è, andatevelo a cercare e ne vedrete delle belle. Fidatevi! E' peccato anche che l'aeroporto sia stato inaugurato senza aver ancora ottenuto l'idoneità ad operare e senza aver stretto alcun accordo con le varie compagnie aeree. Di fatto non c'è nessuna tratta che coinvolge l'aeroporto di Castellon. Questo, unito ai vari problemi giudiziari, porta a un lungo e incredibile mancato utilizzo di questa struttura e l'aeroporto di Castellon si guadagna l'infelice nomea di aeroporto fantasma. Pensate che bisogna attendere il 2015 per vedere il primo atterraggio di un volo regolare presso questo aeroporto. Ben quattro anni! In un aeroporto costato la bellezza di 150 milioni di euro. Ad oggi la struttura in realtà è pienamente operativa, con varie tratte che coprono alcuni paesi europei, tratte piccato di compagnie low cost, ma l'aeroporto di Castellon continua ad essere ricordato e continua ad essere considerato uno dei più grandi simboli di sperpero di denaro pubblico e di fondi europei. Si conclude così la curiosa storia che coinvolge Alex de Bon e l'aeroporto di Castellon, una delle storie di sponsorizzazione nel motociclismo più particolari, più interessanti e allo stesso tempo più dimenticate. Anzi no, anzi no, c'è un altro dettaglio interessante da raccontare prima di chiudere. Nel settembre del 2022 Alex de Bon e Carlos Fabra, che ricordiamolo era il presidente della provincia di Castellon e l'anima dietro al progetto dell'aeroporto, sono stati indagati per il versamento da parte dell'ex pilota spagnolo di una somma pari al 10% della sponsorizzazione nei suoi confronti da parte dell'aeroporto di Castellon dal 2008 al 2011 sul conto dell'Aerocas, la società che gestisce appunto l'aeroporto. Come è andata a finire la storia non è ancora andato a saperlo, ma ecco, ci tenevo anche a condividere questo dettaglio. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi ringrazio tanto, tanto, tanto per averlo guardato e vi do appuntamento ai prossimi contenuti. Un saluto, ciao!